Carissimi amici, sono PaninoTube e oggi torniamo su Dead Incoming Un gioco praticamente molto particolare dove noi diventiamo il cubo mietitore E dobbiamo andare a prendere le anime delle persone Mamma mia, questo gioco l'ho già portato una volta, mi è piaciuto tantissimo Prima di cominciare mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Se volete essere salutati qui sotto nei commenti basta che ve lo chiedete E io vi saluto direttamente qui sotto nel commento Oppure se volete farmi qualche domanda io cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti Ma adesso direi di partire, direi di cominciare subito perché non vedo l'ora di tornare qua A fare nuove esperienze in questo nuovo gioco Cioè nuovo, in realtà l'ho già portato più di un mese fa Va bene, che facciamo? Tocchiamo play, andiamo avanti Siamo arrivati a livello 23 Cosa devo fare qua? Taglielo a metà, in che senso taglielo a metà? Che devo fare? Allora, devo prendere qua la bottiglia e lanciarla? No Così in questo modo, non ho idea di che cosa io debba fare Aspettate, forse devo usare questo qua in questo modo Devo taglierlo a metà, lì c'è tipo una corda che passa No, no Aspetta, lo faccio bere Se beve qua in questo modo succede qualcosa No E che bisogna fare a quest'uomo? Cosa gli devo fare? Non c'è niente qua, non c'è niente Ma, ma dai, ma subito cominciamo così Cioè, qual è il modo che possiamo fare qua per farlo tagliare a metà? Cioè questo mi dice soltanto di tagliarlo a metà Ma come, ma come, come faccio? Faccio cadere qua la bottiglia? No La metto qua davanti? No La metto qui dietro? No La metto qui sopra? No Qui sopra l'albero, qui in cielo Sopra la sua testa Ah, eccolo qua Ah, che bello Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta E abbiamo preso pure l'anima di questo amichetto Vieni qua, anima, vieni con me Che ti porti in un posto bello Ok E ora qua cosa succede? Allora, c'è questo amichetto qua che è Non lo so cosa sta facendo Premo qua il pulsante Allora, qui stanno per sostituire l'acqua No Allora, qui c'è un libro Posso mettere il libro qui sopra Qui dentro? No No, no, amichetto Non chiamare più Non chiamare più No, 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 no La prendo io sta roba La prendo io Ok No, questo lo posso far cadere? Lo metto qua? No, no È un po' difficile sto gioco È un po' difficile Non posso spostare sto pulsante da un'altra parte Non posso spostarlo No, no Non premere quel pulsante Non premere Guai a te se premi quel pulsante Guai a te Lo metto qui sopra Il libro lo metto qui Ok Mettiamo qua l'amichetta l'infermiera Toh Gioca con questo Gioca con questo No Dove è finito il libretto che gli ho dato? Il cosetto che gli ho dato È tornato qua Su, gioca qua Gioca qua Ah, ecco qua Adesso tecnicamente No, non ci provare Basta E basta Leggiti il libro Buona lettura Ok Si è addormentato con il libro Non più, non più No No E ora cosa succede? Bellissimo ce l'abbiamo fatta Non so come il libro praticamente gli ha causato questa cosa Ma meglio così Meglio così L'importante è che non prema più quel pulsante Ok E ora qui c'è l'amichetto che sta facendo delle cose Ok dobbiamo farlo fuori Facendogli cadere degli oggetti Ok io mettere qui un secchio d'acqua Allora no Qui in questo modo Posso tagliare la corda così no Ok Se tocco lui posso toccare qualcosa di lui Ah ecco qua posso praticamente farlo dondolare Posso farlo dondolare perfetto Ma io però non so se devo farlo dondolare In questo modo in questo modo Dondolo più che non posso più non posso Dondola 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 No non fa altro Non fa niente Devo darglielo a lui Tu prendi questo no Ok ok Dovevo mettergli praticamente il secchiello d'acqua E ora cosa succede No Ma quell'ancora da dove è sbuccata fuori Cioè questo qua si stava sostenendo Con un'ancora da nave Cioè queste le navi le vanno a mettere Non qua sugli edifici a caso Non così sugli edifici Va bene Però siamo riusciti a completare il livello Prendiamo quale monete Quelle che ci spettano Purtroppo non posso Sbloccare i bonus Perché comunque Non posso mettermi a guardare i video Ok Livello di ricompensa E Devo schipparlo quindi Niente niente Ok Andiamo avanti Proviamo a fare i prossimi livelli Però voglio vedere quale skin Che posso sbloccare Allora attualmente no Non posso sbloccare nulla Perché Costano troppo Costano troppo le mie skin Vediamo qua anche i weapon Le armi Non neanche quelle Ma il palloncino cos'è Il palloncino di hit E quello Ok Andiamo avanti qua E facciamo il livello 26 No Devo farlo fuori Facendolo crashare Con un crash Ok Cosa posso fare Prendi qua la fionda Usa la fionda E Ha fatto tutto da solo Ha fatto tutto quanto lei Non è che ti te l'ho fatto io Che io ho rotto la mongolfiera No Ha preso la fionda E si è buccata lei la mongolfiera Vabbè Meglio così Così andiamo avanti qua Con il livello Ok C'è il pirata C'è il pirata che sta solcando l'oceano Ok Devo eliminarlo con il fuoco Come ho capito Prendi le banane Mangia la banana Buon appetito Buon appetito amichetto Non è successo niente Non è successo niente Ok Prendi questo Invece No Ma cosa Ma guardate No Non è successo niente Neanche così Ti metto qui sopra La banana Invece Gli tolgo qua il cannocchiale Il binocolo Quello che è Che cosa posso fare qua Gli sposto questo Gli lo metto qua Gli metto la banana Qui sopra No Gli metto qui sopra Invece la banana Il cannocchiale di qua Non ho la più palida idea Di che cosa bisogna fare Aspetta Gli metto questo qua E poi gli faccio mangiare la banana Mangia la banana Mangia la banana No Non la mangia Non la mangia Così in questo modo Non lo so cosa va fatto qua Forse devo spostare Aspetta Se metto questo qua Ok Così viene meglio E vai E vai Bisognava mettere la lente di ingrandimento Direttamente al sole Così ci ha pensato direttamente il sole A far fuori tutto quanto Ma meglio di così Fino a quando sono gli altri Che fanno il lavoro al posto mio Meglio ancora E meglio ancora Ok Qui c'è l'amichetto Che si trova qui sotto E ora tecnicamente Vorrebbe salvarsi Ma Perché dobbiamo salvarlo Ok In questo modo Ok Ecco qua No E però scusate Perché Perché Rimane lì bloccato Il sassolino Così in questo modo Ok No niente La nuvola la mettiamo qui dentro Aspettate nuvola qua La metto Posso spostare pure la nuvola Tra l'altro Va bene va bene Così arriva l'acqua E ora lo chiudo qua Con il coso Ah vabbè Non c'è bisogno di chiuderlo Vabbè ma è lui Ma è lui che Si è fatto trascinare così Poteva sfruttare l'acqua Per risalire Ma non l'ha fatto Ma Meglio così Meglio così E quello si sta bevendo Nel frattempo La coca cola Anzi la soda Si sta bevendo la soda Andiamo avanti qua E vediamo Che cosa possiamo sbloccare Penso nulla Perché per sbloccare le cose Devo guardarmi i video Solo che non lo posso fare Ah Frui spin Spiniamo qua Vediamo che cosa esce fuori Dai dai Tante monete Tante belle monete Eh Cento monete E che ci faccio con cento monete Cosa ci faccio Piuttosto datemele nella realtà Va bene va bene Andiamo avanti qua Fatemi sapere se vi piace questo gioco Se vorreste vederci Un altro video Perché lo faccio molto volentieri Ok C'è qui l'amichetta Con i fili qua Che escono fuori Cosa possiamo fare Gli prendo qua Un oggetto suo Io lo metto qua La nuvola Posso spostarla Ma cosa Ma che succede No No Ma ho spostato soltanto una nuvola Non è che ti ho fatto chissà che cosa Una nuvola E vabbè se poi qua si va oltre I limiti della fisica Non è colpa mia Non è colpa mia Ok ora qua devo tagliare Qui l'albero No Mando qua il castoro a mangiare Castoro mangia la legna Mangia la legna E vediamo se c'è qualcosa di strano Che si può spostare Qua niente Cioè posso spostare il castoro E metterlo qua Posso mettere la falce Aspetta lo do qui al castoro E ora cosa fa Niente Se ne ha mangiato come se nulla fosse Allora glielo porto qua Faccio il contrario No 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 allora gli metto qua Allora il castoro sopra di lui Lo metto su di lui No non fa niente Non fa niente Non succede nulla E che che Cosa faccio qua Cosa devo fare Gli unici oggetti che a quanto pare Posso muovere E ho all'ascia Oppure il castoro stesso Il castoro lo lancio così Il castoro Il lancio del castoro Ha funzionato Ho fatto il lancio del castoro Ha funzionato No Questa era veramente molto brutta Era molto brutta questa Va bene Comunque livello completato L'importante è quello Ok amichetta Sta mangiando la torta E che deve fare qua l'amichetta No Non ditemi che devo fare Quello che penso io Ditemi di no Ok No 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 Ma povera amichetta Stava festeggiando il suo compleanno Era il suo compleanno Non si poteva aspettare un altro giorno Almeno fategli festeggiare il compleanno In tranquillità E poi dopo ci occupiamo di prendere la sua anima Non subito qua nel suo giorno del compleanno Vabbè Non importa Andiamo avanti qua Vediamo cosa riusciamo a fare Uh Adesso dovrebbe esserci livello Non lo so Nuova skin sbloccata Ma non posso prenderla Non posso prenderla Perché devo guardare un video Che non posso guardare ora Ok Direi di fare ancora qualche livello Oh mamma mia Oh mamma mia Che devo fare qua Allora Prendiamo qua la bottiglia d'acqua La diamo qua alla pianta piragna Vediamo cosa succede Sta crescendo Sta crescendo Ma non succede nulla Allora gli diamo qua il fuoco Mettiamo qua il fuoco No niente Mettiamo qui l'acqua Sottoterra E ora No Nooo Nooo Ma bellissimo questo È bellissimo Vabbè Colpa sua è che si è distratto Cioè Poteva poi restare lì a guardare È ovvio che quando ti trovi in un pericolo del genere Devi fare attenzione a quello che stai facendo Ok Niente pesca Niente pesca Che devo fare qua Mangia qua lo squalo Vediamo cosa succede No No Aiuto Aiuto E mo che succede qua No Oh mamma mia Mamma mia Ma pure lui Ma ti trovi una roba del genere Lascia la canna da pesca Cioè Te la vai a ricomprare piuttosto Ok Vediamo qua Faccio cadere questo Sopra di lei No Si è salvata Si è salvata Devo farlo cadere meglio a quanto pare Devo far cadere meglio il vaso Ok Togliamo qua In questo modo Ok Va bene Sì Bisogna fare quindi il doppio passaggio Ma che salto ha fatto No veramente Bisogna avere una sfortuna A centrare Il buco del tombino in tal caso Bisogna essere veramente sfortunati Ma non importa Perché il livello è stato completato Andiamo avanti qua E direi di fare ancora un paio di livelli Vediamo quale sarà il prossimo livello Che ci toccherà fare Va bene Prossimo Andiamo qua avanti Sì sì Vabbè Tutti i livelli ricompensa Non mi interessano adesso Non mi interessano Io devo fare qua la partita Tocchiamo play E andiamo avanti di nuovo lui Ma di nuovo lui Ma l'abbiamo fatto prima sto livello Prima abbiamo fatto Ah no Stavolta però È tornato più potente di prima Ok allora è più difficile Mettiamo qui allora sto pesciolino Vediamo cosa succede Ok Vediamo E vabbè però E vabbè ma pure te Ma pure lui C'è lì che si mette lì a martellare sul ghiaccio E ci credo che pesirò un peccato in acqua E ci credo Ma dai Vabbè è buon per me Buon per me Ok mamma mia Ma qua cosa devo fare Metto il cappellino sulla sua testa No Cosa Ah sì perché è ricercato È ricercato Qua c'è il cartello Cioè ma allora basta soltanto mettere un cappellino Ed è risolto tutto No vabbè Andiamo avanti qua Vediamo qua Cosa c'è da fare Ok ci sono gli amichetti che stanno festeggiando la grigliata Però proviamo a mettere questo Non lo so Non lo so Mangia qua un po' di carne grigliata Questo lo metto di qua Non succede nulla Gli metto questo qua Su Mangia qua Mangiate Mangiate Questo non posso fare nulla Nulla di particolare Ok Su su ma Perché non mi fa prendere questo però Perché non me lo fa prendere Su Mangi Prendi qua un'altra fetta di carne grigliata Prendine qua un'altra Così io prendo anche questo Nel frattempo No No Non me lo fa fare Non me lo fa fare Quindi provo a metterlo qua Qui vicino Ok ok Guardate cosa sta succedendo No Ma quanti ce ne sono di sti cosi Quanti ce ne sono No Ma Ma dai Aspettate quindi se io faccio cadere qua Posso poi anche mettere questo Qui In questo modo No Prendo qua uno di questi gabbiani Aspettate ho capito Ho capito Adesso viene qua un gabbiano Lo raccolgo No Non me lo fa prendere Non me lo fa prendere E qua con sto coso Dove va messo sto coso Dove lo devo mettere No Non so cosa ci devo fare Non so cosa devo fare In questo livello No Allora Ah Però posso alzare qua In questo modo Ma è fantastico Ho messo l'hamburger Lì sopra E quella bottiglia Si è rovesciata No No Devo dire che anche le grigliate Bisogna fare molta attenzione A quanto pare la grigliata Non è più una cosa sicura Come una volta Dopo sto video Va bene Va bene Andiamo avanti Direi di fare qua L'ultimo livello Quello che ci tocca da fare Vediamo se riusciamo a completarlo Su su dai Veloce Veloce Free spin Devo pure spinnare Eh Però datemi tante monete A sto giro Datemene tante Oh No Vabbè 500 Potevano darmi mille monete Ne avrei prese molto 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 volentieri Va bene Va bene Andiamo avanti E facciamo quest'ultimo livello Vediamo se riusciamo a farlo Tra l'altro Cosa dobbiamo fare qua No Divieto di tagliare gli alberi Quello sta tagliando Ma come Ma come Metto qua il cartello In questo modo Ok Ah Perché così va a tagliare l'altro albero Ah Ah No Oh Oh Spettacolare Spettacolare Prendi qua l'anima Così ce la portiamo a casa E vai Ok Direi di fare una cosa per ora Direi con questi amichetti pirati Anzi l'amichetto pirato Che combatte con l'amichetto scheletrico Direi di finire qua questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalliciate Che dividete Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video Come sempre vi auguro una buona giornata Buona serata E una buona notte Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.